notta taccia ragazzi buongiorno comunque quello che ho avuto può capitare ogni tanto di avere una notta taccia così ma ne siamo usciti indenni col solito caffè ritardatario però motivi perché la mia notta taccia è finita verso le sette e mezza stamattina comunque la notizia che vi do non la troverete sui giornali una brutta notizia che sui giornali non la troverete un giovane ragazzo di 25 anni si è ucciso impiccandosi all'interno di un di una boutique famosa di un marchio famosissimo in tutto il mondo è una boutique in una delle zone più note per essere zone di negozi alla moda in una città del nord italia come vedete non vi do tanti elementi questo ragazzo dopo l'ennesimo diciamo maltrattamento o diciamo discussione sgradevole subita dal manager di questo di questa boutique di questo marchio è andato via è andato in uno dei locali della boutique e si è impiccato aveva 25 anni si tratta di un mondo dove le persone vengono trattate come come numeri come oggetti dove il risultato conta più ovviamente dell'essere umano e della vita e dove lo stipendio medio che prendono è parametrato al risultato finanziario che riescono a ottenere ed è una vita infernale è una vita infernale che rappresenta molto bene anche nel lavoro come oramai la vita delle persone non conti più nulla non conti più nulla sono siamo negli ectoplasmi e la nostra esistenza è in funzione del danaro che riusciamo a procurare a chi del danaro fa collezione ovviamente i parametri che vi do di questo di questa storia che non troverete nei giornali sono parametri ancora generici non troverete nei giornali perché perché questa notizia è insabbiata non perché giornalisti io lo saputa perché come sapete è l'unico talento che ho e che le notizie mi arrivano purtroppo a volte sono brutte questa notizia verrà insabbiata in tutte le maniere perché non si può macchiare il buon nome di uno dei colossi mondiali della moda buon inizio settimana